Tra i trial più in vista sull'immunoterapia per il tumore al polmone presentati quest'anno nel congresso dell'ASCO a Chicago, ci sono gli studi Keynote 042 e Keynote 407 sull'antipid1 pembrolizumab. Noi ce li siamo fatti commentare dal dottor Diego Cortinovis dell'ospedale San Gerardo di Monza. Sentiamo che cosa ha detto al nostro collega. Grazie. 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 Grazie.